L'azienda ospedaliera Canizzaro di Catania ha ospitato giovedì 29 settembre la celebrazione della Giornata Mondiale del Cuore, un evento promosso a livello nazionale dall'Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco e in città dall'Associazione Il Cuore di Raffaele, fondata in memoria dello studente del Liceo Principe Umberto, deceduto quasi quattro anni fa per arresto cardiaco. Numerosi studenti hanno riempito la sala del Centro Congressi del Canizzaro e hanno partecipato attivamente alle dimostrazioni e simulazioni di primo soccorso. Un'importante iniziativa quella ospitata oggi dall'azienda ospedaliera Canizzaro che ancora una volta punta alla prevenzione. Sì, è un'importante iniziativa su base mondiale, la Giornata Mondiale del Cuore. Stiamo ospitando questo evento promosso anche dall'Associazione Un Cuore per Raffaele, dove il responsabile, il dottore Barresi, ha voluto questa location, ha scelto l'azienda ospedaliera Canizzaro per incontrare i ragazzi, gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per poter parlare di prevenzione. Un ospedale non è soltanto la cura del paziente, ma deve anche promuovere la salute attraverso corretti stili di vita, promuovere iniziative che possono essere utili alla crescita sana della popolazione. Dottore, quant'è importante la prevenzione per cercare di intervenire il più possibile nella prevenzione del rischio delle cardiopatie? La giornata di oggi, la Giornata Mondiale del Cuore che abbiamo avuto qui all'azienda Canizzaro, che è l'azienda votata per l'emergenza nel territorio metropolitano dell'area di Catania, manifesta proprio questo, vuole essere proprio questo. Cioè la conoscenza dei fattori di rischio, che è la tempestività del riconoscimento dei sintomi per la prevenzione e la cura delle malattie cardiovascolari, soprattutto dell'infarto miocardico. La conoscenza inizia proprio dai banchi di scuola, inizia dalle scuole elementari, dalla cultura che viene diffusa nelle famiglie, nelle scuole, nei bambini, nei soggetti di età adolescenziale, perché proprio lì innanzitutto bisogna diffondere una cultura della prevenzione e una cultura anche dell'emergenza. Cosa possiamo dire quindi ai ragazzi che ci seguono per cercare di intervenire il primo possibile, soprattutto sull'importanza della prevenzione? Ma si inizia dall'adeguata dieta, dall'evitare gli stravizi, che oggi in epoca adolescenziale, soprattutto l'abuso dell'alcol manifesta un netto incremento, alimentarsi con cibi sani, a basso contenuto calorico ed eseguire un'attività fisica, quindi combattere la sedientarietà. La funzione del 118 è fondamentale, ma è altrettanto fondamentale anche l'aiuto ovviamente di chi si trova accanto nel momento di difficoltà del soggetto che necessita appunto del vostro intervento. È proprio così, è proprio così, è l'unione che fa la forza, proprio è stato detto l'emergenza e la grande sfida della sanità internazionale per affrontarla meglio, ciascuno che fa la sua parte. Quindi se io mi accascio a terra in Corsa Italia, non ho il 118 vicino, non ho un medico vicino, ho la stante, ho l'amico, ho il passante che immediatamente sa quello che deve fare, due mani sul torace, una chiamata al 118 e a quella persona che gli darà, non la vita, ma la qualità della vita. Quindi non una vita di assistenza sociale, ma una vita di totale benessere. E allora, sinergia. E la sinergia come si fa? Facendo capire a tutti il ruolo importante che ciascuno di noi ha nella società. Cioè, il cittadino è un valore aggiunto per il sistema dell'emergenza, è il vero valore aggiunto. Può arrivare l'ambulanza con il superman del rianimatore, ma se prima non ci abbiamo messo due mani sul torace di quella persona, noi recuperiamo una persona con danni cerebrali irreversibili. Quindi poco ci vuole. Non riusciamo, non ci ricordiamo quali sono le manovre di rianimazione? Nessuna preoccupazione. Cellulare, viva voce, auricolare. E l'operatore della centrale farà e darà supporto a chi deve fare il massaggio cardiaco con una rianimazione guidata. E dopodiché, ognuno abbiamo fatto la nostra parte. E il paziente ci dirà grazie. Ma grazie non è un grazie che noi desideriamo dal paziente, ma quel grazie che ci fa andare avanti, andare avanti, andare avanti, per migliorare questa organizzazione, che i risultati si portano con i giochi di squadra. Quindi dobbiamo capire che la squadra è ampia nella sanità. E ognuno ha un ruolo, ognuno ha un valore aggiunto. Anche quest'anno una bellissima e importante giornata di prevenzione per i fattori di rischio cardiologico che hanno visto tantissimi ragazzi partecipare, che è l'obiettivo della vostra associazione, il cuore di Raffaele. Assolutamente sì. Il nostro obiettivo è cercare di formare e informare tantissimi ragazzi più possibile delle scuole catanesi. Abbiamo avuto un'affluenza importante di circa 250 ragazzi, di quattro istituti del comprensorio catanese. Noi vogliamo ringraziare l'associazione Rianimazione Lorenzo Grecollus, che è membro della World Health Day, che ogni anno il 29 settembre organizzano a livello mondiale la giornata del cuore. E noi per il secondo anno consecutivo siamo partecipi e coordinatori per Catania. Quindi un ulteriore vanto in questo evento che possiamo organizzare, che organizziamo. E siamo contenti di averlo fatto, grazie anche alla collaborazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania, al 118 che è qui in presenza stabile, alla presenza delle forze di polizia, tra cui i carabinieri, la marina militare, la capitaneria di Porto. Quindi siamo contenti di questo evento come è andato e sicuramente cercheremo di migliorarci anche nelle prossime edizioni. Grazie. Grazie.